Ha fatto chiaramente scontri diretti e differenza reti, è inutile anche parlare. Vediamo il gol di Ledesma che ha gelato il portiere Alo Taibi, credo coperto comunque perché non ha... Era davvero una lignata veramente impressionante, dal limite della rigore, collo esterno, una bomba. Qua Sarate è una magia a servire Pandev, Pandev ha sciupato un gran regalo. Sarate è un assist proprio da...